Le porte alle liste civiche le aveva già aperte in campagna elettorale. Quelli di destinazione comune gli diedero una grossa mano per vincere le elezioni. Oggi, più di ieri, Landella riconosce il valore aggiunto, ritenendolo addirittura fondamentale nella definizione della nuova scena politica. Forse è certo che la vita dei partiti è dura e riorganizzare Forza Italia è un'operazione che difficilmente si incastra nei tempi che corrono. Oggi la gente si è distaccata e disaffezionata dai schemi classici. Allora bisogna riavvicinarla con nuovi modelli. Dobbiamo cercare di acquisire maggiori consensi, di allargare la platea della partecipazione e della condivisione e penso che le liste civiche siano un ottimo strumento per allargare a tante persone che vogliono dare il contributo per lo sviluppo del territorio, per lo sviluppo della nazione, della città, quelle che sia, ma non vogliono mettersi o indossare la maglietta del partito. Chiaro il progetto politico di Franco Landella che tra l'altro sta già applicando per fortificare il suo mandato, l'attenzione al mondo delle civiche e la tutela di Forza Italia. Grazie. Grazie.